good morning sunshine good morning come stanno i nipotini della zia bene grazie tu non sei un nipotino della zia sei il mio amico i nipotini di zia sono là e ci stanno guardando ciao oggi faremo qualche domanda biscotto intanto biscotto che cosa ti piace fare mangiare e che cosa ti piace mangiare un po di tutto però soprattutto miele miele e poi frutta frutta vogliamo imparare i nomi dei frutti in inglese sì sì allora intanto detto che ti piace anche il miele e sai come si dice miele in inglese no honey honey bravissimo allora la frutta dimmi quale frutto ti piace ti dirò come si dice in inglese beh mi piace la mela apple apple poi poi vediamo mi piace la pera la pesca peach peach e la banana è facile banana banana fragole strawberries questo è difficile fragole strawberries strawberries ok e gli lamponi raspberries raspberries excellent oh oh mi piace tanto l'ananas ananas si dice pineapple pineapple excellent ok gli ultimi due frutti ciliegie le mie preferite cherries cherries bravissimo e l'ultimo frutto è l'arancia è facile perché lo stesso nome del colore arancione orange orange sei bravissimo biscotto e anche voi nipotini della zia siete stati bravissimi avete imparato qualche parolina nuova oggi sì e mi è venuta fame ecco andiamo a mangiare eh della frutta va bene con il miele sì perfetto se volete rivedere il video cliccate play e se non vi siete ancora iscritti potete iscrivervi al canale di auntie lally sia lally noi vi salutiamo ciao bye bye ciao 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 ciao